La competenza d'intervento per la bonifica del vallone tittadegna spetta al comune di Barletta e non alla regione Puglia. A spiegarne i motivi è proprio il capogruppo PD in regione, Filippo Caracciolo. Dopo che a lunedì mattina l'ambientalista Antonio Binetti ha iniziato lo sciopero della fame, nel tratto in cui rischia di consumarsi un disastro ambientale. C'è un cittadino sensibile alle tematiche ambientali, lo sta dimostrando non soltanto su questo tema ma anche su altre, che si è caratterizzato per mettere in evidenza alle istituzioni alcune disfunzioni. Molto pesanti anche e soprattutto delle mancanze da un punto di vista ambientale. Io penso che ogni amministratore dovrebbe subito intervenire per mettere a disposizione della città e per la risoluzione soprattutto delle problematiche. Rimbalzare la responsabilità o pensare che la propria responsabilità passi attraverso altri enti non mi sembra corretto. Gli sversamenti di amianto, plastiche e rifiuti speciali all'interno del vallone rappresentano un pericolo per l'ambiente e per la salute dei cittadini. L'amministrazione comunale è già intervenuta nel 2019 nel rispetto dei regolamenti regionali in vigore. La competenza non è della Regione. La Regione ha nel 2000 emanato un regolamento proprio per disciplinare questi tantissimi casi, perché immagini quanti canali di questo genere ci sono su tutto il territorio pugliese e all'articolo 26 della legge regionale 17 del 2000 è previsto che il compito delle funzioni non soltanto di pulizia e di manutenzione ma anche di pulizia idraulica spettano i comuni. La Regione Puglia continuerà a monitorare l'operato del comune di Barletta con il vallone Tittadegna, che necessita di un nuovo rapido intervento. Bisogna fare un sopralluogo, bisogna verificare lo stato dei luoghi e quindi fare un programma di pulizia straordinaria di quell'area.